Sulla A11 per traffico intenso Code tra Sesto e Peretola in direzione Firenze E tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa Sulla FIPILI un chilometro di coda per lavori Tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze Sulla corda autostradale Siena a Firenze Per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni Nel tratto compreso tra Badesse e Siena Nord La viabilità cittadina a Firenze In via Curtatone per incidente Restringimento di carreggiata e code Puoversi Toscana è un servizio realizzato In collaborazione con Regione Toscana Città metropolitana e Comune di Firenze Vi auguriamo un buon viaggio Grazie a tutti